Qui per voi è sempre il vostro Gianmarco Orlande, sono qui oggi con Jean-Michel, il direttore del Webfestival di Marsiglia, a cui faremo un paio di domande. Come si è iniziato la partnership con la Webfest di Rome? Michael Adjocchi, che è il presidente del Webfest, mi ha parlato della volontà di creare un festival a Rome. E quindi, tutto ciò, abbiamo fatto contatto con gli organizzatori di Roma Webfest, in loro dicendo che ci sarei lì per le supporto e che ci ai aiuterei a creare questa prima edizione a Rome. Quindi, in realtà, ciò si fa normalmente quando si è Webfest, perché abbiamo dei Webfest nel mondo entro. E quando qualcuno ha chiesto di creare un Webfest, ci siamo in relazione e cercano di creare l'avenir del festival. E abbiamo deciso di supportare l'Oroma Webfest, quindi siamo molto contenti. Perchiamo la differenza tra l'Italia e la produzione del Webfranco. La differenza, in Italia, ci sono molti, molti, molti Webfranci. In Francia, ci sono meno. In Italia, le Webfranco è un po' di storia. In Italia, ci hanno una Webfranco fantastica, una Webfranco politica, una Webfranco di comienzi, più o in Francia, ci sono molti Webfranco di comienzi. la france c'est vraiment un pays qui fait que de la comédie donc c'est très difficile nous en france d'avoir des webséries de science fiction de vampir de monstres par contre la différence c'est qu'en france la france soutient finance les webséries et je ne sais pas si en italie il y a des aides de financement mais voilà, ça c'est la grosse différence qu'il y a entre l'italie et la france perfetto noi la ringraziamo grazie li auguriamo una buona permanenza in italia ok grazie